Stavo pensando alla frase che di solito alcuni uomini dicono un po' così There is no trip for the cat Che è un po' così Diciamolo all'italiana Maria Rosaria Non c'è trippa per gatti sarebbe l'italiano Esattamente Troppo sofisticato era Ma io credo però che ha molta ragione Anna La donna ha sempre una porta di disponibilità Perché la donna guarda al di là dell'estetica pure semplice del canone Quindi in qualche modo l'incontro Dite sempre così ma non è poi così No no è così Vero Corrado? Altrimenti non si spiegherebbero le conquiste di Woody Allen A proposito di Woody Allen una domanda che ti volevo fare Tu hai incontrato tantissimi artisti, registi E chi più ne ha più ne mette tra l'altro come Woody Allen Ma c'è qualcuno che ti è rimasto veramente impresso come persona Cioè la bellezza interiore piuttosto che esteriore Che dici questa persona è speciale Beh sono molto fortunata perché sono sicuramente più d'una Un grandissimo regista molto speciale Peter Brook Un altro grandissimo Andrea Ivaida con cui ho girato Vauenza, l'uomo della speranza dove interpretò la Fallaci E poi indimenticabile Luigi Magni Che mi ha insegnato Roma Ma anche un valore dell'amicizia E della... di trasmettere Quindi questo che è più che una regia È un modo veramente di avere un'empatia profonda Sono per me così dei papà cinematografici Ci piace molto questo babà cinematografici E proprio ti regalo un babà tele... Papà, papà Eh? Papà, papà Ah ok Dicevo papà Dicevo papà Però il babà qui a Napoli ci sta Ah sei a Napoli? Allora va bene il babà anche È fissato, è fissato per i dolci questo ragazzo Io adoro il babà Cioè il babà ce l'ha fisso qua Ah è perché c'è il ritorno E c'è il ritorno E quindi ho sentito babà Ti regalo un babà televisivo Cara mia Maria Rosario Maggio Dedicato proprio a te L'ubbabà L'ubbabà Non c'è niente Ma che succede? Che succede? Che si è portato via i miei figli? E passiamo subito a presentare i sei cantanti in gara oggi Buongiorno a tutti Ciao Rosario Eh non sei ma cinque Nel senso che c'è un'assenza Un'assenza giustificata Quella di Albano Con letterina dei genitori? No è stata Romina che ha spedito una letterina di giustificazione per il marito La vorrei tanto amori C'è troppa confusione Io ringrazio la commissione I bambini e tutte le persone qui in sala E ripasso la linea al delle vittorie Grazie Questo babà per te Maria Rosaria ti fa venire in mente dei momenti speciali della tua carriera Ma soprattutto credo tu essendo una donna di una bellezza, di una classe, di un'eleganza unica Hai qualche... insomma il tempo che passa per te, come lo vivi? Perché sei bella oggi, ieri e lo sarai domani Come vivi il tempo che passa? Sto aspettando Sto aspettando ansiosamente che passino almeno altri dieci anni così da poter fare ruoli nel cinema Perché nel cinema italiano di solito le attrici si utilizzano fino ai 45 Poi bisogna aspettare i 70-75 per poter fare gli altri ruoli Le donne in mezzo di solito sono penalizzate Anch'io ho debuttato al cinema 17enne con Thomas Millian e Maurizio Merli Che erano molto più grandi di me E la cosa si ripete ancora oggi Cioè magari vicino a attori di 60-70 anni ci sono trentenni Diverso il cinema francese, cioè Fabrice Lucchinias sempre vicino a Coetane O il cinema anglosassone, in parte anche quello spagnolo Noi dobbiamo essere caratteri, quindi over 70 e li devo aspettare necessariamente E oppure invece al di sotto dei 45 Cosa fai per essere così bella? Come fai a mantenerti così in forma? Perché sei super in forma, bellissima Una top model direi, oltre che una grande attrice Quali sono i segreti della tua bellezza? I segreti innanzitutto cerco di andare d'accordo con me stessa Che è il primo segreto di bellezza Il secondo è che sono vegetariana Non di quella che impone agli altri Ma insomma lo sono da tantissimi anni Intendo dire 30-40 anni E poi soprattutto io pratico Tai Chi Chuan Sono istruttore di arti marziali Quindi io pratico Tai Chi Chuan quasi quotidiano Borrado non riesce a capire cos'è? Tipo una cosa così, una forma, cos'è yoga? No, ecco No, no, è uno sport Sono ignorante in materia totale E quell'arte marziale cinese Ci fai vedere, facci vedere che ci piaceva molto Ci vedete praticare Facci vedere Maria Rosaria Adesso da seduta per l'inquadratura mi è difficile però Per esempio Non so, oppure questa Questo Tai Chi Che grazia che hai Scusa, posso farlo pure io? Ci provo pure io Ci sto pensando pure io Com'è? La copiamo, la copiamo Corrado, dai, collabora con noi Mi spiace se vi lascio Dai, Corrado, su Tai Chi Salute E tu invece cosa fai per mantenerti in fondo? La prossima volta Ma avete visto che la prima La prossima volta vengo in studio Assolutamente, quando vorrai Porto anche spada e ventaglio Ah, che bello Che bello Ma scusa, perché non ce lo recuperi? Perché io vedo dietro di te forse qualcosa che ci potrebbe aiutare Una spada e un ventaglio a casa ce l'avrai, no? E magari facciamo già un piccolo segno Chi non ha una spada a casa Chi non ha una spada a casa Un po' tutorial, capito? No, ma perché Lei è una straordinatrice Ha interpretato tutti i ruoli, ragazzi Maria Rosario la conosco E so che a casa avrà spada e ventaglio Dimmi, caro La prima foto che avete fatto vedere Nella mia presentazione Ero un ragazzino con la maglia del Sampdoria Io ho fatto il calciatore Quindi, insomma C'è un grande tifoso, eh? Sono un tifoso malazzo Vivi di rendita, questo vuoi dire Sei contento quindi di ieri? Molto Con la Roma Ha perso la Roma, sì Sei contento per la Sampdoria? Sì, però l'Udinese era meglio se non vinceva No Vabbè, però, vabbè Niente E vabbè, ognuno ai suoi gusti Stiamo lottando per salvarci Quindi va benissimo Noi stiamo lottando per vincere, cara Anna Chi? Noi giuventini Vabbè, cambiamo argomento Cambiamo argomento Facciamo passare weekend e ne parliamo Ne parliamo lunedì Allora, stavi dicendo che praticamente deve mantenerti in forma Al di là che hai fatto il calciatore da ragazzo Quindi non è che si può vivere di rendita tutta la vita Ora, cosa fai? Allora, corro, cerco di correre E poi sono circondato d'amore Nel senso, ho due figli meravigliosi Due nipotini meravigliosi C'è questo scambio d'amore tutte le sere sul palcoscenico Che, guarda, è una roba che veramente ti mantiene giovane Il teatro ti mantiene in forma, eh Perché uno spettacolo, sai quante calorie bruci? A noi lo dici? Eh, appunto Prendiamo chili al giorno, non prezziamo, non riusciamo a cenare quasi Qui? Eh beh, sì No, nel senso Non spediamo gli altarini, Beppe E manca, manca questo contatto pazzesco col pubblico Che è uno scambio d'amore spavenzoso Penso che sia lo scambio d'amore più bello che esista Io sono andato in scena in condizioni fisiche In cui una persona sta a letto sotto le coperte e non si muove Però riesce, il teatro riesce a darti una, delle, niente Sviluppa delle sostanze dentro il corpo quasi anestetiche Endorfine Sì, è anche altra roba molto più potente, secondo me Cioè? Per cui No, sì Delle sostanze simili a certe droghe Per cui hai Oh, addirittura Adrenalina Come? L'adrenalina è molto forte Serotonina Eh, l'adrenalina è una droga autoindotta, autoprodotta dal corpo Che è simile a certe droghe Per cui finito l'effetto muori E la serotonina che è la felicità Tu vai sul, eh sì Tu vai sul bar cocenico, fai il tuo spettacolo Riesci a farlo, poi esci nelle quinte e muori E viva l'adrenalina e viva la serotonina Naturalmente abbasso tutto il resto che abbiamo detto Per carità Maria Rosaria, chiudendo Ti volevo chiedere Qual è il passo Insomma, tu hai veramente vissuto dei momenti di grande gloria E continui a viverli Ma qual è il passo in questo terzo tempo della vita Che è strano a dirsi guardandoti Ma qual è il passo che farai? Perché sei così bella Insomma, le rughe ti hanno mai fatto realmente paura? Ti hanno fatto pensare che il tempo passava e bisognava far qualcosa? Non ho mai avuto questo problema Io ho interpretato con pochi anni di differenza Anche la mamma di un attore In una delle prime fiction Dove facevo la mamma cattiva Ed era una mamma improbabile Vista la differenza di età Ho sempre scelto i ruoli In questo momento è la felicità di fare quello che uno crede di fare Nonostante tutto Anche con la mascherina Riprendo il teatro Grazie a Ruggero Cappuccio Che ha fatto partire Napoli Teatro Festival Scarpe Rosse racconterà con la danza Con i ragazzi della Moving Beat La meravigliosa coreografa Antonella Perazzo Con la musica antica inserita in quella moderna Di Gianluca e Mario Perazzo Con Pino Quartullo Tutti gli uomini Tutte le donne Perché è importante La memoria può correggere il presente Diceva Flaiano Che Corrado sicuramente conosce bene Adoro Flaiano Solo in teatro si ritrovano i simboli delle cose perdute di vista Qual è l'unica cosa che durante il lockdown Purtroppo ci ha destato dalle notizie Che erano solo e sempre per la pandemia Purtroppo il femminicidio o la violenza di genere Di questa esigenza di raccontare la storia Perché in realtà non si tratta di forse nati O di così qualche eccezione Causa dei tempi moderni Ma ci sono documenti che risalgono all'antica Roma Fino al Medioevo Poi il Rinascimento E poi la Rivoluzione Francese E poi ancora oggi Noi siamo molto vicini alla causa Perché chiaramente il femminicidio È un dramma enorme E invitiamo tutti gli uomini ad aver rispetto delle donne Naturalmente verremo a vederti a teatro Perché è uno spettacolo sicuramente molto significativo E che ci aiuta a riflettere E non triste Non triste affatto Ricordiamolo che debutterà il 5 luglio Il 5 luglio ci aiuta a riflettere su quello che Il cortile Grazie Ci aiuta a riflettere su quello che Il palazzo reale Ok ti ringraziamo Maria Rosaria Grazie di essere stata con noi Grazie a tutti Grazie a tutti